Visto, buongiorno, intanto c'è una collaborazione tra il segno e il facetto. Dopo cinque pareggi, le siede in panchina e dà una grossissima responsabilità, perché se vince avrà fatto qualcosa di deciso l'altro, ma se pende, se pareggia non cambia nulla, ma se vince o pende diventa qualcosa di sostanzialmente diverso. Questo è chiaro, ma non tanto per me, ma per tutto il Tramano, perché il lavoro è collettivo, le responsabilità, siamo tutti pronti a prendercele e lavoriamo appunto per farsi che le cose vado in una certa direzione, quindi al di là del fatto che cederei in particolar modo a vincere, non mi sento questa presa che dice Dario sulle spalle, no, è una responsabilità, ma a certamente è. Chiaramente, sapendo che dovrebbe essere la svolta, anche se siamo appena alla stessa giornata del campionato? La svolta anche qui direi non proprio, diciamo che siccome stiamo lavorando in una certa direzione in cui anche le prestazioni stanno sicuramente migliorando, ci attendiamo tutti a fare un'ottima partita, ripeto, ci aspettiamo anche se è possibile anche di vincere, però la svolta la stessa giornata no, lo sarà un positivo se continuiamo a lavorare in questa direzione che stiamo sicuramente migliorando, questo è fuori da ogni dubbio. Situazione incortunata, in particolare Coronato? Sì, allora Coronato è da valutare ancora, è un piccolo problemino che sembra non troppo serio, ma sicuramente domani non sarà della partita. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te. Invece la situazione di Raffaello e di Ceralità è da? Allora, anche queste qua diciamo, ce l'abitare ancora una settimana e rientrare in gruppo, Raffaello è da valutare ancora, ha un piccolo problemino che diciamo dobbiamo aspettare l'esito come va. Nulla di grave, comunque. Vi appresto a incontrare una salermica, chiaramente cercherà molto in casa di non avere quello che ci è venuto fino adesso. Che squadra vi aspettate? Se probabilmente avete studiato ancora non ci sono le intromisure per non subire l'iniziativa di una squadra che comunque in casa, agli altri risultati, si è dimostrata molto molto... molto... molto aggredita diciamo. Sicuramente è un ambiente particolare, un pubblico che spingerà la squadra a mille, come è sempre accaduto anche in passato. Quindi troveremo un ambiente caldo, un ambiente, una squadra sicuramente che vorrà ben figurare davanti al proprio pubblico, ma diciamo che noi siamo anche pronti a rispondere a questo. non è una sorpresa, diciamo che siamo pronti a questo tipo di ambiente. Per quanto riguarda invece le cose tattiche, ancora abbiamo preso in considerazione un paio di situazioni perché loro fino adesso hanno cambiato spesso modulo, quindi diciamo siamo pronti a un paio di situazioni che hanno spesso trovato e domani in campo poi quando inizierà la partita vedremo. un pochino, ero affezionato per il passato, adesso un pochino si è dovuto rimuovere al credo di Seste e Cospi. Questo 3-5-2 è interpretato in maniera diversa sabato scorso. Puoi essere veramente interpretato già dalla direzione? Io credo di sì. Come dicevo abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori bravi. Questo ci permette anche di cambiare atteggiamento tattico sia prima sia durante la partita. Le considerazioni poi chiaramente le farà il mister in base alla settimana, in base all'aspetto fisico, all'aspetto tecnico, ma la fortuna di avere così tanti giocatori ci permette comunque di avere tante soluzioni. Un'altra domanda. Chiaramente si è detto già sabato che anche qualcuno che finora aveva giocato poco è una fase di crescita. Ci sono alcuni liberi che stanno mettendo il freno in panchina giustamente perché il mister aspetta che sia nelle condizioni di poter dare quello che lui si aspetta. Lei collaboro chiaramente a fianco a fianco a Montecheno, quindi ricordate sicuramente dei giustiziai anche sui singoli. Mi riferisco ai vari scoppi, ai vari altri che erano solo in panchina, il canotto per esempio. In che condizioni sono realmente? Perché noi non li vediamo in panchina. Io ho risultato qualche squadra di allenamento, quindi non so se sono già pronti o comunque ancora no. Allora, diciamo da un punto di vista fisico, per quanto riguarda Viscotti e Canotto non ci sono, credo, nessun tipo di problema. Hanno sempre lavorato con la squadra, lavorano bene, sono ragazzi molto seri e molto applicati, quindi è solamente un discorso che riguarda le scelte tecniche del mister. Per quanto riguarda qualcun altro non è ancora al top della condizione fisica, perché vengono da dei lunghi stop. Siamo ancora noi in attesa di progressi, anche se questi stanno avvenendo è sotto l'occhio, penso, dei tutti. Mi riferisco a Pektovic, mi riferisco a Citro, a questi ragazzi qua in particolare, ma si vede che stanno migliorando. Quindi anche lì l'utilizzo, diciamo che è sempre più chiaro l'angolo da parte del mister. Nicola Pampato. Mister, allora, settimana atipica, torno stretto, poco tempo per ragionare o per preparare se abbiamo le partite. Trappani che comunque ha dato una importante risposta nella partita contro lo Spezia, un trappani positivo, non è arrivato dopo il punteggio pieno. Però, con certe cose che vi ho detto in conferenza stampa, non mi interessa il risultato di questa partita, alla fine è rimasto comunque soddisfatto. Stessa cosa non si può dire comunque dei nostri aggressori. Squadra che, a me, sentendo i corrispondenti da Salerno, ci è sembrata particolarmente confusa, almeno per i modi, gli inserimenti dei giocatori di Rosina, cambiamenti in corso d'opera, insomma, e poi soprattutto questa voglia di far bene in casa, lì alla vecchia. Insomma, non è una partita, anche dal punto di vista, diciamo, psicologico, facilissima questa qui. Io credo che partite facilissime in Serie B non esistano, quindi, come ho detto prima, troviamo un ambiente carico, ma lo è sempre, è un pubblico numeroso, un pubblico che si fa sentire. La squadra non viene da un buon momento e sicuramente avranno voglia di ben figurare. Noi dal punto di vista mentale non possiamo essere, diciamo, aspettarci una partita tranquilla. Ma, ripeto, in Serie B nessun campo va a giocare in maniera serena, consapevoli della nostra forza, consapevoli di poter ben figurare, ma dobbiamo anche non mollare un centino, non dare il massimo, inevitabilmente. Quindi la consapevolezza è la nostra arma in questo momento che deve far fronte a qualsiasi attività. Sicuramente sì. Abbiamo affrontato queste cinque partite in crescendo. Quindi questo sicuramente, al di là, appunto, ci manca qualche punto e qualche vittoria che avevamo potuto fare tranquillamente, però ci porta anche alla consapevolezza che siamo in una fase in cui la crescita è evidente. Quindi questo sicuramente ci dà morale, ci dà forza, ci dà convenzione. E serenità, devo anche aggiungere io, perché... La serenità, diciamo che sì, ma non troppo. Nel senso che comunque siamo anche consapevoli che abbiamo perso qualche punto. Quindi anche noi abbiamo voglia di ben fare, di ben figurare. Dico serenità nel lavoro, nell'ambiente. Ognuno sa quello che deve fare. Ma mi riferisco proprio anche al tono di questa conferenza stampa. Mi rifaccio anche al mister Battisti, che fu esempio proprio di tranquillità, proprio una roccia in ampuglia. È un buon senso. Lui fece due su due. Bene, bene, di buon auspicio, è quello che accade. Ripeto, poi chiaramente non conosco mister Battisti, ma ognuno ha il suo carattere, il suo modo di interpretare le cose, ma sono sicuro che poi la voglia di ben figurare e di vincere non manca nessuno di noi che fa questo tipo di lavoro. E Recchi dove? Recchi è tranquillo, nel senso nei modi. Vado a fuoco dentro, nel senso che spesso il bollore lo tengo dentro. Però, ripeto, ci teniamo tutti in particolare modo a far sì che le cose vadano bene. Grazie. 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 Grazie a te che ti diceva. Infatti, io non avevo subito già un impatto positivo, ma avevo inserito e mi spesso intanto a pensare alla fase di processo, quindi alla fase difensiva. E credo che su questo sta lavorando perché, anzi sicuramente sta lavorando perché ci sono elementi nuovi e ci sono. perché questo reparto possa raggiungere un certo livello di sicurezza sul traspettatore del reparto se stesso e del contributo che gli altri reparti danno alla fase di un processo palco anche per tutti siete c'è sempre da lavorare e da migliorarsi questo è proprio una costante del calcio per quanto riguarda noi siamo a ricerca di un equilibrio che deve essere sempre presente in campo sia quando fai la fase difensiva che la fase offensiva perché credo che tutto poi avvenga per una serie di cose che si chiamano semplicemente equilibrio quindi se non prendiamo gol il merito degli attaccanti che lavorano in una certa maniera dei centrocampisti, dei difensori non è mai merito solamente di un reparto in particolar modo quindi diciamo che la vera ricerca che si fa è quella di avere sempre un certo equilibrio in campo posso che le scelte venivano ponderate alla lucidia la valutazione che avete fatto poi per quanto riguarda l'utilizzazione di Colomarco e Scorciarella insieme vi ha confortato dal punto di vista positivo o meno? diciamo siamo rimasti soddisfatti sicuramente della loro prestazione e della loro prestazione insieme nel senso che si sono mossi bene non si sono mai ostacolati hanno dato equilibrio alla squadra hanno dato sicuramente anche tanta sostanza dal punto di vista tecnico sono due giocatori con caratteristiche leggermente diverse ma entrambi molto molto bravi quindi in campo si sono mossi bene che penso dal punto di vista ambientale caricherà ancora di più visto che l'anno scorso un salernitano che si chiama Nicola Citro fegno un gol di rapina poi trabano col suo portiere parano un calcio di rigore insomma sono rimasti veramente con la mano in bocca per Citro potrebbe essere una partita particolare quella di sabato visto che ha giocato poco in questi ultimi due partiti come è stato? anche lui come ho detto prima è un ragazzo che sta lavorando bene si vedono dei miglioramenti da un punto di vista fisico sta sicuramente meglio per quanto riguarda il fatto che giochi in casa diciamo così sicuramente un pochino la sentirà più degli altri come è giusto che sia avrà tanti amici avrà parenti a vederlo ci terrà in particolare modo a far bene questo sicuramente